Hai capito? Eh, diventa paradossale se no. Comunque qua, questa bella cassetta di funghi ben si abbina con il più bel negozio della vetrone. Eccolo qua. Abbiamo del rosa, cos'è che gli dà il rosa, i mittillo? Poi abbiamo delle ottime tagliatelle, degli gnocchi, un'insalata di farro che è da sballo, e poi abbiamo la parte dolci che per me è la più significativa, la più interessante. Un saluto dalla signora Morena, arrivederci e grazie.